Sì, sono... sono le otto! Perfetto, il mio esperimento comincia bene. Sono tutti esattamente in ritardo di venticinque minuti. Ehi, un momento, un momento. Doc, mi stai dicendo che sono le otto e venticinque? Precisamente. Accidenti, ho fatto tardi a scuola. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione!